inizia con quando inizia la medianità organizzata commento la medianità organizzata inizia con alan kardec continua con la blavatsky e ancora si espande con il pullulare di altre medianità vere e false grandi e piccole infatti ogni uomo e medium e la medianità non conosce gerarchie perché ogni medianità serve a chi la crede tale il falso medium che prende denaro dalla madre che crede di parlare con il figlio trapassato serve a quella madre e solo quel medium con tutta la sua disonestà le serve grazie